L'UNESCO stima che la metà delle 6.000 lingue che parliamo oggi spariranno entro la fine del secolo. Questo magari perché a scuola i bambini si insegnerà in una seconda lingua invece che nella loro lingua madre. Ci sono vari motivi per cui una lingua viene abbandonata a vantaggio di altre. E come farlo? Andiamo in Ungheria a parlare con Rita Ijac, consulente dell'ONU esperta di problemi delle minoranze. Rita Ijac, consulente delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, ha scritto un rapporto sulle lingue minoritarie che evidenzia questioni preoccupanti. Lei stessa proviene da una delle più numerose e svantaggiate minoranze linguistiche in Europa, i Rom. Sono molto fiera di avere origini Rom. Una storia triste è che la mia famiglia non parla più la nostra lingua, i Romanes. Se conoscete un po' il popolo Rom saprete che ci sono diversi gruppi. Alcuni di noi nascono all'interno di comunità in cui si parla la lingua Rom fin dalla nascita. Altri invece vengono integrati in comunità in cui non si fa più un forte uso della lingua madre. Metà delle 6.000 lingue che ci sono nel mondo sono parlate da meno di 10.000 persone e potrebbero scomparire entro la fine del secolo. Fattori storici come la colonizzazione avrebbero influito sulla perdita di certe lingue, mentre la minaccia più recente è la globalizzazione. C'è una storia affascinante in Messico. Due uomini di circa 80 anni sono gli unici a parlare una lingua chiamata zapaneco. Ad un certo punto i due hanno litigato, senza neanche ricordarsi perché, e hanno smesso di parlarsi. Un'azienda di telefonia che ha aiutato a costruire una scuola nella comunità ha invitato questi due anziani ad insegnare la loro lingua nel centro del Messico. Questo è stato un modo molto creativo di far riappacificare questi due uomini in nome di una lingua che solo loro conoscono e che ora possono trasmettere ai bambini e alle generazioni future. Grazie a tutti.